Benvenuti su Cuori di Tenebre, sono Claudia. Il caso che vi porto oggi è avvenuto in Svezia ed è conosciuto come il massacro di Boden. È avvenuto nel 2013 e diciamo che è ritornato alla ribalta in Svezia nel 2015 e poi di nuovo nel 2020. Ascoltando il podcast capirete perché. Qui nella foto intanto, l'unica foto del podcast, vi faccio vedere la vittima, Vachereya Bangsuan, una ragazza di 20 anni di origini tailandesi. Questa ragazza è stata uccisa e smembrata. Io non conoscevo questo caso, ne ho sentito parlare da un'amica e spero che sia di vostro interesse. Fatemi sapere se in Italia la notizia era arrivata o meno e soprattutto cosa ne pensate di questo caso veramente particolare. Quindi Vachereya Bangsuan, che ora per comodità chiamerò Ploi, che era il nome che ha assunto in Svezia, cioè si faceva chiamare Ploi perché appunto Vachereya è difficile da pronunciare e molto lungo. È nata il primo di agosto del 1992. All'età di tre anni perde il papà e dopo un po' di tempo la madre incontrerà un uomo svedese in Thailandia, si sposeranno e si trasferirà tutta la famiglia nel 2004 nel villaggio di Boden, a nord della Svezia. Ploi era una ragazza intelligente, vivace, che si è adattata bene subito in Svezia, ha imparato la lingua e si è fatta diversi amici ed era un'ottima studentessa. Finito il liceo, scusate, le scuole superiori. Si è iscritta all'università nella facoltà di ingegneria elettronica. studiava, praticava karate quattro volte a settimana e in più nei fine settimana distribuiva volantini presso le case per guadagnare qualche soldo extra. Ma facciamo un piccolo balzo indietro. Nel 2010 Ploi frequenta le scuole superiori e conosce tramite un amico Christoph Johansson che aveva praticamente un anno di più e aveva già finito la scuola. Iniziano a sentirsi per telefono, per messaggio, eccetera, si incontrano e poi praticamente si mettono insieme e per Ploi questo è il primo amore. Lei era completamente presa da questo Christoph. E malgrado avesse, come vi ho detto prima, una vita abbastanza piena tra tutti gli impegni, trovava comunque il modo di incontrarlo ogni giorno. E quella primavera, in pratica, durante quella primavera già lei avrà speso due o tre notti a casa dei genitori di lui e anche lui avrà dormito qualche volta a casa di Ploi. Cosa normale perché insomma avevano 17, 18 e 18 anni. Mentre Ploi era completamente presa dalla relazione, Christoph inizia ad avere dei dubbi su questa relazione, a sentirsi diciamo intrappolato dall'intensità dell'amore di Ploi che appunto lo voleva vedere tutti i giorni e quindi le propone di continuare a stare assieme però iniziare anche a frequentare altre persone e Ploi chiaramente non è assolutamente d'accordo e gli ha detto o stiamo insieme al 100% o ci lasciamo. A quel punto lui ha fatto il passo indietro e ha detto va bene, però per farla contenta, però quella stessa settimana andrà ad un party con degli amici e la sera quando erano ubriachi, stanchi eccetera iniziano a parlare tra loro e uno di questi amici di Christoph era diciamo, se possiamo dire razzista. Quindi hanno iniziato a discutere sul colore della pelle, sulla etnia delle persone eccetera eccetera e a un certo punto si rivolge a Christoph dicendo io non riesco proprio a capire come fai a stare con una ragazza thailandese. Christoph che fa? In pratica quando torna a casa le telefona e le dice che la relazione era finita. La stava lasciando dopo tre mesi di relazione perché era thailandese. Ploi chiaramente lo manda al diavolo, interrompe la telefonata e dopo questo fatto non si sono più parlati per anni. Tuttavia Boden, questo villaggio, è un posto piccolo. Ogni tanto capitava che si incrociassero e chiaramente tutte e due facevano finta di non essersi si ignoravano. E non avranno contatti sino al 27 luglio di due anni dopo. Ma prima parliamo di come stava Ploi dopo la rottura. Per Ploi era il primo amore e quindi chiaramente stava giù di morale, non guardava nessun altro ragazzo, era triste. Finisce le superiori, si iscrive all'università e la sua vita in pratica girava attorno agli studi e agli allenamenti di karate. E proprio durante gli allenamenti di karate le cade l'occhio su uno degli istruttori. Ci diviene amica su Facebook e iniziano a sentirsi praticamente online e poi anche diciamo telefonicamente perché il problema era che questo istruttore aveva 29 anni più di lei che ne aveva 18 e inoltre era sposato e aveva dei figli. Lui chiaramente era lusingato dall'attenzione di una ragazzina di 18 anni e quindi iniziano a sentirsi e dopo cinque mesi di flirting online alla fine si sono organizzati per un incontro segreto. L'istruttore che poi in seguito verrà contattato dalla polizia dichiarerà che hanno avuto diversi rapporti fra la primavera e l'estate del 2012 sempre nella sua macchina e tuttavia a lui piaceva Chloe, le voleva bene insomma solo che aveva dei rimorsi di coscienza quindi le dirà che voleva tornare in pratica ad avere rapporti con lei solo come studente e insegnante. Chloe però a questo è rimasta delusa e voleva che questa persona restasse ancora nella sua vita anche se in cuor suo magari aveva capito che avendo poi lui dei figli era una storia che non portava a niente insomma. E quindi sentendosi giù e demoralizzata, ferita, Chloe che fa? Va online in cerca di consolazione, conforto e ad alcune persone accade in questi casi che cosa fanno? Contattano gli ex ed è quello che ha fatto Chloe. Che ha fatto? Dopo più di due anni che non sentiva Christophe gli ha mandato praticamente un messaggio su facebook dicendo ha saputo che ti sei preso una casa per te e lui aspetterà quattro giorni prima di di rispondere. E risponderà sì di avere un appartamento e le chiede cosa stava facendo ultimamente eccetera. La sera stessa che riceve la risposta di Christophe Chloe risponde ma sto bene e poi chiede vivi da solo? Io adesso studio all'università, tu che fai? Vai a scuola, lavori? Perché chiaramente sì, magari si vedevano di vista ma non sapevano molto l'uno dell'altra e questa volta Christophe risponde subito al suo messaggio e dicendosi che lavorava come custode allo stadio di Boden e le chiede se viveva ancora a Boden perché lei faceva su e giù tra Boden e la città dove andava all'università. E gli risponde sì, vivo ancora qui ma penso di trasferirmi nell'altra città il prossimo anno. Quindi continuano le loro conversazioni sempre su facebook messenger fino a che non si scambiano i numeri di telefono e non fissano un appuntamento si sentono così fisseranno un appuntamento prima, verso la fine del 2012. Intanto Ploy che fa? Ricontatta l'istruttore di Karate gli chiede se potevano di nuovo stare assieme e lui accetta quindi a questo punto Ploy inizia anche a perdere interesse verso Christophe probabilmente l'ha contattato così in un momento in cui stava giù poi quando ha ripreso i contatti con l'istruttore di Karate probabilmente è tornata a pensare chiaramente e si sarà ricordata di come l'aveva trattata quindi insomma non aveva più interesse in pratica tuttavia Christophe che si vede questo messaggio su facebook messenger dopo due anni e più rinizia a pensare alla ragazza e si rende conto che era la persona che voleva nella sua vita perché era indipendente, bella, simpatica e si era praticamente dispiaciuto di averla lasciata e si era reso conto che non gli interessava assolutamente quello che avrebbero pensato gli amici quindi cercava di vederla di nuovo e dopo un incontro a Bode in un bar lei era andata a casa sua e mentre Christophe pensava che quello sarebbe stato l'inizio di qualcosa di serio insomma di una relazione e Chloe gli fa capire che in pratica potevano essere tutt'al più friends with benefits ma tutto qua e questo ha fatto irritare molto Christophe che aveva invece di nuovo questo interesse verso di lei Ploy che incontrava dietro le spalle della moglie e di tutti gli altri ancora l'istruttore aveva anche altri interessi amorosi perché sapeva che comunque la storia con l'istruttore non sarebbe durata tanto quindi aveva iniziato a incontrare un altro uomo nella primavera del 2012 e dice l'aveva incontrato le ha dato una possibilità si erano incontrati anche qui tramite un amico comune dopo un po' di frequentazione praticamente si erano messi assieme e lui aveva un paio di anni in più di lei e nell'estate del 2012 addirittura lo presenterà ai genitori come il suo ragazzo il padrigno dirà poi di questo uomo che gli sembrava un po' troppo protettivo e controllante nei riguardi della figlia qui siamo alla fine dell'estate del 2012 Ploy usciva con quest'uomo ma allo stesso tempo era in contatto con l'istruttore con cui si incontrava ogni tanto Christophe invece le mandava costantemente messaggi vocali e di testo ma le uniche volte che lei gli rispondeva era quando era fuori a divertirsi tuttavia le cose si fecero accese diciamo per Ploy quando quest'uomo che aveva anche presentato alla famiglia insomma venne a scoprire dell'istruttore e sebbene Ploy non abbia mai confessato niente a lui gliela voleva fare pagare e che fa? Telefona la moglie dell'istruttore e la informa di tutto a questo punto la moglie dopo che aveva saputo tutto perché poi dopo la moglie gli ha gli ha fatto anche domande eccetera eccetera ha confrontato il marito il quale le ha detto che in pratica Ploy era ossessionata da lui un po' come accade a scuola tra una studentessa e un professore che lui stava cercando di allontanarla nella maniera più sensibile possibile insomma nega e la moglie gli crede e la storia finisce lì però a questo punto l'istruttore tronca definitivamente con Ploy e lei sembra capire la cosa tuttavia gli chiede se possono comunque rimanere amici e l'istruttore le dice di sì Ploy gli invierà diversi messaggi ogni giorno e quindi era in una situazione tra l'istruttore l'uomo il ragazzo il presunto ragazzo che era arrabbiato e in questa situazione Christoph riesce a rinserirsi nel quadro lui non aveva mai smesso di contattarla sebbene lei avesse messo in chiaro appunto che vorreva restargli solo amica però nello stesso tempo lei non fa sapere ai genitori che aveva ripreso i contatti con Christoph a un certo punto è arrivato il giorno in cui Ploy doveva prepararsi per dare un esame all'università e allora siccome a casa si distraeva non riusciva a studiare in pratica che cosa fa? sente Christoph e gli chiede se può andare a studiare a casa sua e lui dice di sì e la va a prendere a casa con la macchina e la porta al suo appartamento quella stessa mattina ma i genitori non vedono che arriva Christoph a prenderla perché non sapevano che aveva ripreso i contatti con Christoph prima di andare quindi quindi e praticamente alle 16 esce di casa saluta la madre e quella è e quella è l'ultima volta che Ploy è stata vista in vita dai suoi genitori dalle altre persone dalle altre persone eccetto per Christoph quando era uscita quando era uscita Ploy si era portata con sé i libri di fisica ma aveva lasciato il portafoglio a casa e aveva detto quando la madre le aveva chiesto se tornava per cena le aveva detto di sì dalle indagini che verranno fatte dopo la scomparsa di Ploy è venuto fuori che il suo telefono si è collegato a una cella vicino a casa di Christoph alle 17 e quindi dimostra che fosse nell'appartamento di Christoph inoltre Ploy scriverà diversi messaggi di testo fra le 17.04 e le 18.40 contatterà anche l'istruttore che però risponderà verso le 19.30 ed è stato questo poi che ha fatto sì che la polizia contattasse anche l'istruttore che dichiarerà che Ploy gli aveva scritto diversi messaggi e in uno diceva è matto dobbiamo parlare tuttavia l'istruttore per paura che la moglie scoprisse i messaggi cancellava immediatamente dopo averli letti quelli che riceveva così come cancellava quelli che mandava insomma e la polizia non è stata in grado di recuperarli il telefono di Ploy tra l'altro non è mai stato ritrovato la polizia ha analizzato tutti i tabulati telefonici di Ploy e si è riscontrato che aveva cercato di contattare la polizia ossia il 112 alle 17.09 il numero era infatti stato digitato ma aveva sbagliato invece di premere il pulsante verde per l'invio alla chiamata ha premuto la stella che si trova in basso a sinistra e quindi la chiamata purtroppo non è partita probabilmente aveva paura bisogno di aiuto in quel momento ma noi non lo sapremo mai sino alle 20.32 il suo telefono era ancora localizzato nell'area della casa di Christophe quando è passato dalla rete 3G a quella 2G alle 20.38 6 minuti dopo si è connessa nuovamente alla 3G non essendo tornata a casa per le 9 i genitori la contatteranno verso pochi minuti prima della mezzanotte sul cellulare ma le loro chiamate saranno sempre indirizzate sulla segreteria telefonica perché il telefono era spento tuttavia non è stato spento in maniera normale quando lo si fa sembra che invii un messaggio alla cellula alla quale è collegato ma questo messaggio non è stato inviato e quindi significa che o non aveva più batteria o ha tolto la sim oppure il telefono è stato rotto o gettato nell'acqua eccetera dato che Ploy era sempre attenta ad avere le batterie cariche infatti portava sempre dietro il carico e batterie la polizia ha concluso che probabilmente il telefono le sia stato rotto o manomesso il giorno dopo ossia il 5 maggio del 2013 che era una domenica i suoi genitori preoccupatissimi riporteranno alla polizia la scomparsa della figlia immagino dopo le 16 del pomeriggio hanno dovuto far passare 24 ore dall'ultima volta che l'hanno vista perché la ragazza era maggiorenne quindi intanto la madre si era connessa al pc di Ploy aveva letto le varie conversazioni tra Ploy l'istruttore tra Ploy e Christophe e inizia a temere il peggio nella notte di mercoledì 8 maggio iniziano le ricerche e c'erano circa 50 poliziotti 60 volontari della Swedish Home Guard e 150 membri dell'organizzazione Missing People coadiuvati da un elicottero che sorvolava la zona parteciparono alle ricerche anche diversi amici di Ploy tra cui Christophe ora abbiamo visto a grandi linee chi era Ploy ora vediamo chi era Christophe Johansson era nato in un piccolo villaggio a circa due chilometri da Boden ed era uno studente decente ma farà solo il primo anno delle superiori per poi ritirarsi e trasferirsi in un istituto specializzato per persone con l'asperger so che non si usa più questa parola scusate perché è nello spettro dell'autismo però questo è quanto ho trovato e così lo riporto questo istituto praticamente rilascia poi si dà la possibilità a chi finisce insomma il corso di studi di accedere all'università e si chiamano Folk Institute Folk High School di solito sono situate in campagna spesso in zone rurali sono gratuite e gli studenti ricevono un sussidio dallo Stato per le spese quali alloggio materiale scolastico eccetera e credo che in Svezia ce ne siano circa 150 e si trovano diciamo in diversi paesi del nord Europa la Svezia la Norvegia la Germania la Svizzera credo anche la Danimarca e non tutte sono specializzate per persone con bisogni particolari ma alcune sono dedicate anche a persone appassionate all'arte alla musica o altro Christophe non si diploma nemmeno lì perché smette dopo un anno e mezzo non ha mai avuto un lavoro stabile ha sempre avuto degli impieghi temporanei sponsorizzati dalla comunità anche il suo impiego come custode presso lo stadio aveva una durata solo da agosto a dicembre del 2012 dopo di che prenderà il sussidio di disoccupazione Christophe ha due fratelli uno di dieci anni maggiore di lui e l'altro di due anni minore Christophe dichiarerà di essere stato bullizzato durante tutta la duarata del suo periodo scolastico e questo è iniziato da quando aveva sei anni e poi è andato peggiorando questa situazione e tra le altre cose quando era all'ottavo anno ossia credo la terza media per noi gli è stato diagnosticato appunto l'autismo e la sindrome da deficit di attenzione e iperattività a 15 anni Christophe si è arruolato nella home guard lui era sempre stato affascinato dalle armi e voleva imparare ad utilizzare un fucile G3 voleva entrare nell'esercito svedese ma ha fallito tutti i tentativi per arruolarsi e questo gli ha portato una grande frustrazione da notare che l'ultima volta che è stato rifiutato è stato il 25 aprile del 2013 ossia meno di due settimane prima della scomparsa di Ploy altre cose lui con un gruppo di amici andava sempre nei boschi a protecare un sport competitivo di combattimento dove due squadre si sparano a vicenda proiettili di plastica con pistole ad aria non so come si chiami questo sport e Christophe non se n'era mai perso uno durante tutti gli anni in cui lui dice di essere stato bullizzato effettivamente lui è riuscito comunque a farsi amicizie sia maschili che femminili tra l'altro era anche popolare tra le donne oltre alla relazione con Ploy nel 2010 ha avuto altre due relazioni negli anni seguenti una di queste due ragazze dichiarerà poi in seguito alla polizia che l'aveva quasi strangolata una volta e io qui non so in che contesto ma immagino probabilmente in un contesto di intimità però aggiunge che non era mai stato violento in altre occasioni quando nei primi mesi del 2012 si è preso un appartamento tuttavia lui ha iniziato a sentirsi diciamo solo quindi ha deciso di prendersi un cane gli amici si sono subito preoccupati perché hanno detto dice questo non si sa prendere cura di se stesso figurarsi se si può prendere cura di un cane tuttavia Christophe prende un cane di una razza svedese da caccia e che arriva a casa sua praticamente quando aveva otto settimane ma essendo Christophe incapace di gestirlo praticamente non gli ha fatto il training per andare alla toilette insomma per aspettare di portarlo fuori a determinate ore o usare magari le lastrine in casa lo lasciava sempre da solo e quindi questo cane abbagliava abbagliava in continuazione tanto che i vicini si sono lamentati ed è arrivato un momento in cui la situazione era talmente disperata che avrebbe potuto essere stato costretto a lasciare l'appartamento a quel punto questo cane scompare non abbaia più non si sente più non si vede più e Christophe dirà che essendo un cucciolo così aveva morso un filo e praticamente ha preso la scossa ed è morto tuttavia molti vicini hanno poi notato una larga pozza di sangue nel giardino e macchie di sangue che conducevano al suo appartamento quando il cane appunto non abbaiava più non c'era più e tra le altre cose è stato visto che siccome faceva freddo e non poteva era ghiacciato siamo nel nord della Svezia non poteva scavare una buca per mettere il corpo di questa povera bestiola ha preso e l'ha gettato direttamente nel fiume ha risolto in questa maniera il problema quando la polizia lo ha interrogato riguardo al fatto che lui fosse l'ultima persona che ha visto in vita lui dichiarerà che la ragazza aveva lasciato il suo appartamento verso le 21 e continuerà a mantenere questa dichiarazione tuttavia il processo l'accusa proverà che quella era una bugia Christophe dichiarerà che quel pomeriggio la ragazza si era messa a studiare mentre lui guardava la tv dopodiché avevano fatto del sesso orale e si erano coccolati per un po' dopodiché lei era tornata a studiare mentre lui ha guardato di nuovo la tv poi verso le 21 lei è andata via e lui sostiene che si ricorda bene perché aveva appena finito di vedere un episodio di Family Guy in tv che era finito a quell'ora e lei era andata via dopo che Ploy se n'era andata dirà che aveva bevuto un paio di birre e poi verso le 22 è andato a guidato sino a casa dei genitori che erano in vacanza ma c'era il fratello minore e dirà che aveva visto che aveva gente che aveva degli amici lì e aveva parcheggiato la macchina nel vialetto e dal vialetto appunto guardando nelle finestre ha visto che aveva gente quindi ha passato circa un'ora dal fratello e poi verso la mezzanotte si era diretto al suo appartamento il fratello al processo testimonierà che Christophe aveva speso circa 20 minuti in casa e poi entrava usciva entrava usciva in maniera nervosa sempre nella sera fra nella notte fra sabato e domenica Christophe riceverà un messaggio di testo da un amico che gli chiedeva appunto la conferma della sua presenza al combattimento sportivo che organizzavano di cui vi ho parlato prima e per il giorno dopo e anche perché Christophe doveva presentare due nuovi membri quindi avrebbe dovuto essere presente Christophe dice sì e invece poi la mattina dopo non si presenterà ma alle 4 e diciamo verso le 4-5 della mattina aveva mandato dei messaggi a questi due nuovi membri al questo amico dicendo che il gioco era cancellato questa è una cosa strana anche perché in cinque anni che praticavano questo sport insomma lui non aveva mai perso un appuntamento e quando gli chiederanno come mai non si fosse presentato ha dato una scusa abbastanza diciamo una scusa che non sto qui a dirvi comunque ha detto che aveva un severo attacco di diarrea autoinflitta sul perché lo salto proprio perché patetico inutile questo l'ha detto in tribunale risulterà poi dagli atti insomma quindi questi amici che avevano ricevuto il messaggio che il gioco era stato cancellato in pratica hanno tutti provato a ricontattarlo però nessuno è riuscito a mettersi in contatto con lui e lui dirà appunto Christophe dirà che dopo che appunto si era sentito male la mattina della domenica si era aveva iniziato a sentirsi meglio ed era andato da un amico a giocare con i videogame e poi il giorno dopo lunedì tornerà dallo stesso amico per continuare a giocare le analisi fatte sui tabulati sulla locazione del suo telefono gli rileveranno che aveva cancellato tutti i messaggi da e verso Ploy tra la domenica e lunedì questo quando la polizia chiederà il perché e lui risponderà che voleva fare il declasser del telefono avendo troppi messaggi e un'altra cosa interessante da notare è che il suo telefono risultava essere stato sempre in casa nella notte dal sabato alla domenica nei due giorni successivi anche se in quel periodo lui si era spostato in diversi posti quindi la polizia lì inizia a nasare che probabilmente questo ha lasciato il telefono a casa per non lasciare nessuna traccia possibile traccia che potesse indicare dove eventualmente avesse occultato il corpo quindi il lunedì scusate quindi sarà solo mercoledì 8 maggio che lui dice realizzerà che che Ploia era scomparsa in realtà il la polizia era andata il 4 maggio a a chiedere lui aveva risposto che alle 21 se n'era andata poi la polizia aveva appena ricevuto la denuncia di scomparsa poi dopo non aveva più sentito niente quindi diciamo lui è andato secondo quanto dice è andato avanti con i suoi con le sue giornate insomma i suoi piani e dirà in pratica quando andrà a casa del fratello appunto il mercoledì quest'ultimo gli dirà dice che è successo a Ploia perché ho notizie di Ploia perché dice aveva visto su facebook l'annuncio che gli amici la famiglia eccetera insomma avevano pubblicato sulla scomparsa della ragazza e c'era anche la foto ha visto la foto e l'ha riconosciuta come un'amica del fratello insomma e il fratello dichiarerà tra l'altro che quando ha chiesto a Christophe questa cosa gli è apparso stupito sorpreso ma subito dopo se n'è andato a casa Christophe parlerà con un paio di amici e decideranno di congiungersi ai gruppi di ricerca quindi il giorno dopo il 9 maggio i tre amici si uniscono nuovamente ai gruppi di ricerca e parlando del telefono di Ploia gli chiedono se aveva provato a chiamarla e lui risponderà di no gli amici dichiareranno alla polizia che questa risposta apparve molto strana loro e Christophe dirà ma i genitori le hanno telefonato non ha risposto e dice è inutile che la chiami io a questo punto gli amici cercano di convincerli dicendo ma guarda magari lei non vuole parlare con i genitori ma a te risponde a quel punto Christophe si allontana un po' dagli altri e fa finta di fare una telefonata che effettivamente però non fa proprio perché probabilmente sapeva che cosa era successo altra cosa interessante è che mentre partecipavano alle ricerche erano proprio vicini al posto dove poi ritroveranno i resti parte dei resti della ragazza e mentre cercavano hanno trovato in pratica Christophe e gli amici una lattina di una bibita energetica di una bevanda energetica che era praticamente aperta per terra e Christophe quando la vede la raccoglie l'annusa e beve allora chi è che trova nel bosco una bottiglia una lattina qualsiasi cosa prende e la beve nessuno quindi la spiegazione più plausibile è che quella lattina effettivamente era la sua che l'aveva dimenticata lì quando l'ha vista l'ha subito presa e ha bevuto in modo da far sì che se rilevavano tracce del suo DNA e le sue impronte digitali lui aveva la scusa con gli amici lì a testimoni che quella lattina l'aveva presa in mano e ci aveva bevuto mentre cercavano altra cosa che fa riflettere che quella lattina era della stessa marca di un'altra lattina che verrà poi rinvenuta nella macchina di Christophe passarono molti giorni dal 9 e tutta la città era ancora presa nella ricerca di ploi finalmente il 20 di maggio esattamente 16 giorni dopo la sua scomparsa un gruppo dell'organizzazione Missing People entrò in una costruzione chiamata The Yellow House che era un ex edificio militare abbandonato sul pavimento di legno di questo edificio vi erano due gambe umane che si rivelarono appartenere a ploi le gambe erano state lavate e sembrava fossero state messe lì di recente tutti tutti gli sforzi dei ricercatori si concentrarono quindi sui luoghi attorno alla casa e due giorni dopo nel bosco a circa 150 metri dall'edificio hanno trovato altre parti del suo corpo il corpo nudo era stato messo in una buca nel terreno coperto da tronchi e rocce mancavano le gambe mancavano le mani e parte del fianco sinistro impigliati nei capelli vi erano dei pezzi di nastro trasparente le mani di Ploy ad oggi non sono state ancora rinvenute il 23 di maggio Christophe è stato arrestato e preso in custodia dato che era l'ultima persona ad aver visto Ploy in vita ed era anche stato un suo ex ragazzo è stato sospettato da subito avevano anche indagato l'istruttore di karate ma aveva un alibi che è stato confermato e quindi lo hanno poi rilasciato quasi subito l'autopsia rivelerà che Pee e che Ploy aveva due coltellate al petto di cui una fatale avendole penetrato il cuore aveva inoltre coltellate multiple sulla schiena alcune delle quali avevano raggiunto i polmoni quando le hanno esaminato gli occhi hanno trovato prove di strangolamento che ha causato il soffocamento tuttavia non sono state in grado di dire se sia morta per soffocamento oppure a causa delle coltellate hanno trovato del DNA corrispondente a Christophe sulla sua caviglia sinistra e un rotolo di nastro corrispondente a quello trovato tra i capelli di Ploy è stato rinvenuto nel bagno di Christophe e sul rotolo del nastro hanno anche ritrovato una goccia di sangue della ragazza quando hanno esaminato la macchina di Christophe a parte che i cani da cadavere l'avevano puntata ma hanno trovato tracce di sangue appartenente a Ploy nel bagagliaio c'erano abbastanza prove per condannare Christophe per omicidio di primo grado nell'ottobre del 2013 verrà fatto appello e quindi la sentenza verrà cambiata e l'accusa verrà ridotta a omicidio colposo e la pena portata a 10 anni credo di aver capito che in Svezia se prendi 10 anni di carcere ne devi scontare solo i due terzi e questo voleva dire che poteva essere messo in libertà già nel gennaio del 2020 verrà condannato a scontare la pena in un istituto di massima sicurezza ossia di livello 1 in Svezia e a questo punto potremmo dire che il caso è chiuso e possiamo dimenticarci di lui e ricordare solo la vittima tuttavia c'è un colpo di scena in tutta questa cosa a parte il fatto della sentenza che anche lì ci sono state delle polemiche ma in Svezia tendono più alla riabilitazione che alla punizione perché 10 anni in altri paesi li prendi magari per un furto nell'autunno del 2018 la televisione tv3 svedese realizzerà un documentario dal titolo in the head of a murderer Kim Marie Johansson che tradotto risulterebbe nella mente nella testa di un'assassina Kim Marie Johansson che non altri era che Christophe Johansson questo perché quando è arrivato in prigione ha iniziato il suo percorso di riassegnazione del sesso grazie a una richiesta psicologica che ha iniziato a prendere ormoni femminili tramite dei cerotti e dei bloccanti del tessosterone quindi ha iniziato il suo il suo percorso mentre era in prigione e a un certo punto anche richiesto di essere trasferita dal carcere di massima sicurezza maschile ad un carcere femminile i carceri femminili in Svezia arrivano solo fino a due non c'è un uno non c'è la massima sicurezza perché solitamente le donne non si macchiano di crimini tanto violenti quanto gli uomini richiesta che ha fatto l'ha giustificata dicendo che subiva delle molestie delle violenze e quindi voleva essere trasferita con con le altre donne e nello stesso periodo ha fatto anche arrivare ad una rivista svedese uno scritto che lei ha chiamato breve storia autobiografica riporto qui alcuni passaggi avevo cinque anni quando ho realizzato di essere diversa all'asilo mi mettevano sempre con i bambini ma io sapevo che avrei dovuto stare con le bambine loro erano come mi sentivo io dentro e trovavo conforto a stare con loro mi ci sono voluti anni per capire il perché mi comportassi come mi comportavo e sentivo come mi sentivo per tutta la mia infanzia sono stata costretta a partecipare a sport che non mi piacevano sport come il calcio l'ok su ghiaccio il wrestling la palla canestro e così via l'unico sport che mi piaceva era il tiro con l'arco dove i ragazzi e le ragazze fanno pratica assieme quando avevo 13 anni finalmente ho capito cosa mi stava accadendo leggevo il mio libro di biologia e ho trovato il capitolo sull'educazione sessuale ho iniziato a leggere e la realizzazione mi ha aperto un mondo io ero una donna intrappolata nel corpo di un uomo e subito dopo ho deciso che nessuno doveva saperlo nessuno mi avrebbe capita poi va avanti dicendo come era stata bullizzata aveva lasciato le superiori e poi si era iscritta alla folks high school dove ha lasciato che qualcuno l'abusasse sessualmente e il secondo anno dice che è stata assuprata ed era per questi motivi che aveva abbandonato la scuola si è rimessa in sesso nel 2009 e ha avuto un paio di anni di stabilità a 21 anni però il suo abuso dell'alcol è peggiorato beveva ogni giorno aveva incubi continui e per mantenere l'ansia sotto controllo beveva non menziona tuttavia i dettagli sull'assassino di Ploy o del fatto che sia stata condannata invece dice che era sull'orlo della scogliera bilanciandosi per non cadere quando è stata arrestata finisce dicendo ho 27 anni e la mia vita è appena iniziata e potremmo dire ma sì che finalmente ha trovato un suo equilibrio che la sua vita è iniziata ma non bisogna dimenticarci che lei ha stroncato la vita che stava per iniziare di Ploy ossia Vacheria Bansuan di appena vent'anni Kim Marie Johansson durante la sua permanenza nel carcere femminile ha collezionato tutta una serie di report per cattiva condotta e ha tenuto un atteggiamento orribile dentro la prigione si rifiutava di lavorare ha fatto minacce di morte si è comportata male con lo staff e ha anche minacciato di uccidere anzi di torcergli il collo il coniglietto che avevano lì le detenute come animale domestico diciamo all'interno della struttura come già detto nel gennaio del 2020 è stata liberata adesso è una cittadina libera può andare dove vuole fare quello che vuole la sua pena l'ha scontata ma c'è stato un mezzo scandalo anche se è stato un po' coperto tenuto nascosto eccetera perché molte donne soprattutto ma anche poi l'opinione pubblica in genere è rimasta sconvolta che una persona che ha ucciso e smembrato una ragazza di 20 anni si sia fatta solo 6 anni di carcere tra le altre cose lei è uscita di carcere una di queste youtuber vi lascio il suo video sotto in descrizione se vi va di vederlo è in inglese lei è svedese e ha detto io ho telefonato addirittura alla struttura carceraria per sapere che è a nord di Stoccolma per sapere se effettivamente era stata scarcerata e le hanno risposto che non potevano rivelare queste informazioni perché erano personali e solo per accesso solo magari la polizia o chi di dovere e era sconvolta da questo perché il sistema giudiziario ha definito Kim Marie Johansson H Christoph Johansson pericolosa con la possibilità di ripetere crimini similari molto alte questa probabilità è data dalla brutale natura del crimine il suo interesse per le armi per la guerra per gli esplosivi in questa valutazione sono state anche considerate le sue lacune di personalità quali le reazioni emozionali inadeguate schemi di pensiero inflessibili bassa tolleranza allo stress e disagio sociale questa youtuber ha poi visto che effettivamente si era in in libertà e è in libertà e addirittura ha il profilo twitter instagram facebook e va sotto il nome di Kim Marie Johansson o Magdala Johansson non sa se sia il vero nome che ha magari sui documenti e quale sia se Kim Marie oppure Magdala o o siano diversi ma sui social è lei infatti lei ha anche detto come questa persona sia una persona pericolosa considerata estremamente pericolosa dagli specialisti e fa minacce e contatta giovani soprattutto della comunità lgtb che magari sui social possano o mettono un like a coloro che ricordano la vittima o che magari ecco condannano le sue azioni e infatti invita tutti a vedere bene le foto e bloccare subito se hanno avuto delle minacce di fare le copie insomma e portarle alla polizia di non prendere la cosa sotto gamba perché ad esempio se si guardano questi profili vari si vede che lei si definisce attivista lgtb cacciatrice di turf poi c'è anche altre cose che queste sono le cose diciamo principali le cosiddette turf sono le trans exclusionary radical feminists cioè vengono definite turf quelle le persone come femministe radicali che non accettano le donne transgender quindi c'è stata una giornalista svedese che si chiama Sissi Vallin che ha parlato del fatto che questa Kim Marie fosse uscita di prigione e ha fatto vedere anche le minacce che ha ricevuto perché sui profili di Kim Marie o Magdala si vede lei sempre con armi mitra fucili esplosivi e vi è un post nel quale fa vedere un proiettile che io non so per la caccia all'elefante al rinoceronte non ne ho idea un proiettile più grosso di un pacchetto di sigarette di lunghezza una cosa assurda dove lei scrive questo è per Sissi Vallin cioè immaginatevi e lei sempre la youtuber denuncia il fatto che molte persone non parlano o non dicono niente molte donne o molte donne transgente non parlano ma possono essere anche uomini non parlano non dicono niente per non attaccarsi un bersaglio sulla schiena insomma e si domanda anche ma lei è uscita adesso potrebbe anche tornare lì a Boden dice la gente che vive lì magari di amici familiari della della vittima e la comunità lgg e incoraggia la comunità lgtb q a intervenire per far sì che appunto questa kim marie non vada poi a magari fare del male anche a loro cioè è una donna che ora attacca le donne dai profili di questa kim marie slash magdala scrive le le törf mi odiano e spargono dicerie sul mio conto perché sono la prima donna ad aver fatto un percorso di riassegnazione di genere in una prigione svedese e sono la prima donna trans ad essere stata trasferita da un carcere maschile a un carcere femminile in un altro post scrive a tutte le törf noi siamo qui per restarci indipendentemente da quello che facciate e poi ci stanno le emoji del pugno ci stanno tre pugni ora questo discorso che è stato portato avanti anche da questa youtuber è lo scandalo non è per la transizione eccetera ma solo perché per la pericolosità di questo individuo individuo c'è anche poi stata della gente che ha insinuato che Christophe una volta messo nel carcere di massima sicurezza maschile ha pensato bene di cambiare sesso proprio per farsi trasferire in una prigione femminile dove a quel punto non avrebbe avuto più alcun problema io spero che questo caso sia stato di vostro interesse capisco che magari può essere un po' tedioso sentire la parte all'inizio ma ci aiuta a capire un po' persone i protagonisti di questo caso a me sinceramente un po' ha dato l'impressione riguardo alla vittima ploi che l'abbiano descritta un po' come un tipo che si accolla cioè quelli che si appiccicano che stanno sempre però ho anche pensato che probabilmente visto è un comportamento aveva un comportamento normale diciamo ma non normale visto con occhi svedesi perché hanno un altro tipo di set di valori della individualità del stare soli della privacy dello spazio di distanza eccetera eccetera e magari una persona un po' più diciamo come carattere vicino al nostro può dare l'impressione effettivamente di essere una persona che si accolla se avete seguito il video fino a qui io vi ringrazio per la vostra attenzione e se volete darmi dei suggerimenti o se volete parlare di questo caso dicendo le vostre opinioni eccetera siete liberi di lasciarle nei commenti mantenendo sempre poi la civiltà gli uni con gli altri augurandovi una buona giornata io vi aspetto per il prossimo caso arrivederci giornata 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 Grazie a tutti